Quindi io avevo accettato la quest. Questa? Questa quest. Questa quest. Io no, per fortuna. Io ho il cappello dell'Ulieti. Anzi, del parco dell'Ulieti. Anzi, del parco dell'Ulieti senza Ieti. Hai il parco in testa? No, il cappello del parco. E senza Ieti? Senza Ieti, anche perché è morto. Eh, vabbè. Vorrei sponare. Eh? Io proprio mi aspettavo la battaglia con il boss con l'Ulieti. Non è giusto. Anche il boss del pane sembrava figo. Beh, però non c'è stata nessuna mappa per quel proprio aggiornamento, quindi. Eh, ho capito, però il boss del pane. Attiviamo la banana. Ok, è una banana. Ok, basta fare punti con lei, non serve per forza la banana, per fortuna. Eh? Sì, minchia. Prendi mille punti dati in un'abilità singola, che cazzo è? Ok, dobbiamo vedere come funziona quel glitch, allora. Sì, per forza. Non volevo farlo, ma voglio farlo. Da Locus Bar è Gloves Running Urgenti, gli hanno detto, però non ho capito il resto come funziona. Vabbè, adesso lo cerco un attimo mentre cerca la partita. Sì, sì. Tu cominci a cercare. Sì, sì, è fatto. Il secondo banale. Vedete, il prossimo aggiornamento dovrebbe avere le armi delle levi, quindi. Mh? Il prossimo aggiornamento dovrebbe avere le armi delle levi, quindi. Perché? Perché avevano votato per il pyro, anziché levi. Quindi il prossimo dovrebbe avere quelle del levi. Certo. Come hanno fatto con Spy vs Sniper. Comunque ha già trovato, eh. Ovviamente, Hightower. Trova subito, ora. Porta! Oh! La porta! C'è un video su YouTube. E come si fa questo script? Dove è questo glitch? Eppure nera, sto male. Come nera. Aspetta che carico. Quindi devo aspettare. Sono già dentro io. Dove sei? Io sono lo spawn. Ah, ok. Aspetta, guardo cosa... Ok, come funziona? Tu cominci a giocare, arrivi. Sì. Oh, ce l'ho la banana. Ce l'ho la banana. Ok. C'è Halloween. Lo mangia pure triste. Ah, si può lanciare pure. Allora. Go, run urgently. Cosa? Sì, questo l'ho capito. E poi? Allora, andiamo un po'. Aspetta. Spostiamoci da qua. C'è troppo rumore e non ti sento. Non ti sento. Che dobbiamo fare? Sì, allora, devi mangiare la cioccolata. Eh. Cambiare le armi velocemente, quindi con la botella, mentre si ricarica la cioccolata. Prendendo cosa? Cambiare velocemente. Non ti devi... Mangiarla di nuovo. E fare praticamente continuare così finché non arrivi alla vita alba. Non sta funzionando. Eh? Hai messo i guanti? Sì. Non so running armi. Sì. Ma devi cambiare l'arma. L'ho cambiata l'arma, non funziona. Ma ve lo c'è niente. E la cambio subito, non funziona. Ma dobbiamo cambiarla subito, cambiarla continuamente. Ma... Devo mettermi la barretta ai guanti, barretta ai guanti. Barretta... Devi... Basta che cambiare, ma, velocemente. Non ci vedrei io, ma. Eh. Anche perché così facciamo punti infiniti e con la vita infinita. Niente è solo per quello, poi non ho interesse in utilizzare glitch. Mi posso ottenere il danno. Infatti. Ma come? Vi faccio vedere. Mangio la barretta e cambio arma mettendo quale? E' questo che non capisco. Quale devo mettere? Aspetta, no. Allora. Devo mettermi le armi. I guanti. Il cioccolato. Levi. Ci sei? Sì. Allora, guarda. Così. Eh. Mangi. Ok. L'ho fixato. Non cambia arma. Come non cambia arma? Non mi faceva niente con Q. Ma perché tu devi usare la rotella? Non l'ho mai detto. E con la rotella devo... Spliccare il numero e poi... Ma però non mi... Oh, non va. Anzi, ho metà della vita adesso pure. Ok, ho 338 di vita. Sta funzionando. Non ho capito come ma sta funzionando. Ebbè, il effetto del droga... Senti, ti lascia aperto. Però non finiamo più. Stiamo. Ok. Non c'è la banana. Uh, ha funzionato. Allora, fallo te. Guarda quanta vita ho. Guarda, sai? Guarda il più... Eh, non ne sto leggendo lui. Sento... Beh, andiamo, dai. Puoi ricevere quel danno. Mi sta aumentando... Mi sta aumentando la vita in continuazione. Guardami, 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 guardami. Allora, fallo te. Fallo, però muoviti perché stavo già con su stando. No, no. Guardami. Ok, spara. Oh, non dovevo. Ok, ho quattro riso di vita. Guarda. È facile, faccio fare del danno. Sono morto. Non è abbastanza. Ho mostrato la mia prima banana. Ok, funziona, funziona. Ho capito come funziona. Hai sbagliato a farlo. Devi mangiare, mangiare la cioccolata. E poi, mentre la mangi, quando appena finisce, subito metti milligan e cosa così. Poi, dopo che si ricarica, la mangi di nuovo. E continui così. E continui a fare così, guarda. Sì, ho capito. Allora, fallo te intanto. Tanto va se lo facciamo uno. Intanto c'è quello di evitare che... Anche perché dobbiamo fare anche un'altra cosa, quello. Ok. Perché ora non possiamo sbloccare lo slap. Farmo un po' di... Farmo un po' e... Farmo un po' di vita e arrivo. Non avrei mai pensato di dirlo. Ok, puoi metterti in spettatore un secondo? No, non posso mettere in spettatore. Cazzo. Appena muori, spettami un secondo. C'è una cosa che devi vedere. Aspetta, venga a vedere. Tanto dovrebbe mostrarti la vita. Ho un plugin che la mostra, però... Allora, beh, non riesco a leggerla. Lo vedi il più attorno, però? Sì. Dell'overial? Eh, quant'hai? Ah? Quanto hai ora? In questo momento mi sta salendo a... 400... 400... 500! 600! 600! Ok. Devi prendere mille di danni in una sola vita, eh. Ok, mi sta scendendo, mi sta scendendo. È la cosa del dialogo, sguardi. Devi farlo... Spesso. Vieni qua, vieni qua. Ti do la banana. Non so se serve per forza fare questa cosa con le armi, però. Basta che mangi e tieni la minigun, e ti aumenta. Oh, non hanno buggato in qualche modo la dialonza. Come ho fatto a far buggare? A me è vero, non cambiate i guanti, giusto? Cosa? Non cambiate i guanti, giusto? Non cambiate i guanti, giusto? Ok, vediamo adesso quanto mi aumenta. Comunque io, la... La Locus non l'ho mai usata. La Locus non è orrenda come arma. Non è neanche un'arma. Se vai medico... Se vai medico... Beh, sì, devi ricevere almeno duemila di danno, forse è meglio. Vabbè, finiamo intanto... Ma li sono sentiti in piedi per ora. Vieni qua, vieni qua, ti do la banana, ti do la banana, ti do la banana, ti do la banana. Dove sei, dove sei, dove sei? Sono morto. Ti do la banana. Vieni medico. Dobbiamo prendere mille di danni, vieni medico. Vabbè, cominciamo a fare i punti intanto. E tanto quei punti si fanno in automatico. Devi farli come heavy però. Eh, e tanto anche a te li segna. Beh, poco una volta facciamo, poi il medico può fare anche l'ora. Guardate una banana. What would you do for a bar of the locust chocolate? Ok, spingiamo. Sopra, sopra! Grande. Assaggiate la mia pistolona d'oro! Assaggiate il mio... ...foglio infiammato. Non è d'oro. Non è d'oro. Non c'è il luo long door. Dietro, 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 dietro. Dove? Ah, è morto, è morto. È potente. Eh. Ecco, sono altri punti nel frattempo. Va funzionando. Sì. Ok, ora puoi andare medico. Accogli la banana. Perché gli aiuti? Perché... Dovevo fare punti. Non importa, abbiamo finito, abbiamo finito, vai medico. Intanto consegno, consegno, consegno. Ok, ragazzi, abbiamo vinto la banana. Intanto consegno. Ok, ora vai medico. Dobbiamo fare le altre due stelline. Aspetta che... E' un'altra banale. Anche io. Aspetta che lo devo riattivare? Oh no, non c'è bisogno forse di riattivarlo. Lo ha riattivato. No, no, ce l'ho già, ce l'ho ancora. Eh sì? Sì, ce l'ho ancora. A me dice che è inattivo. No, io ce l'ho... Eh, riattivalo? Aspetta, è un'altra banale. Mettiti a Evie e te lo attiva. E poi vai medico. Ah già, vero. Ah no, attivato. Dovevo attivarlo un altro primo. No, è inattivo, perché è inattivo? Aspetta un secondo. Adesso è attivo. Adesso è inattivo, devo essere come Evie. Devo essere un Evie. Ma prima funzionava. Adesso no. Senti, diamo la banana alla gente. Te lo faccio bastare. Ok, intanto fatti il buff della vita. Lo faccio io. Eh, fatterò anche te, sì. Allora, io metto... Tu hai la banana, però hai la cioccolata adesso. Sì, metti da... No, aspetta, uno deve avere la banana. Perché? Perché devo fare anche quello di curare i tuoi camponi di risposta con la banana. Ah, ok. Quello. Quello non l'avrò neanche visto ancora. Il mio Evie ha la voce profonda qui. E' halloween. O l'effetto voices from below, tipo. Ok, io ho prontato la banana. Come ottengo mille danni in una singola vita senza overreal? Eh, puri... Dietro... Ok, ok, ok. Dietro c'è questa banana. Vai con le banane allora. Vai, 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 cura, cura. Ho mancato. Allora fammi... Fammi il medico con le banane, ok? Fammi il medico... Fammi... Fammi il medico con la parola. Me la metto anche io. Perché ho ancora quella al contratto? Boh? Ho ancora quella al contratto. L'hai climata, no? Sì. Sono tutte e due. Ossia quella nuova che quella al contratto. Vabbè, andiamo. C'è anche il morto da banana. Andiamo a fare i medici di tutti. Facciamo i medici. C'è un pile. Sì, accetto. Ok. Ora io sono blu. E non possiamo più fare quello della banana. Possiamo fare quello del danno, ma come? Quello del danno? Io ti faccio un po' di danno. E... Sto pensandoci, no. Facciamo quello del pyro. Approfittiamone. Ok, quale? Aspetta. Non mi dai contratti a film. Vabbè, kill con il reflect. No, il thermal thruster. No, extinguish a teammate. Quello... Quello del reflect. Ok, ti metti il soldato? No! Con il detonante... Metti il soldato. Ok. E tu c'hai quel pyro. Però a me non lo conta, no? Non lo so. Aspetta che me lo attivo. Aspetta che me lo attivo. Oh, se lo faccio prima io quello puoi te. Ok. Intanto me lo sono attivato. Ok. Un attimo che respawno. Ok. Devo mettermi il termo di... Contratti in active. Contratti in active. Devi metterti pyro. Eh, vabbè, dai. Sono soldato. E ribrestami i missi. Eh, faccio io una volta per lo fai... Ok. E dove ci mettiamo? Che qua è un casino. Dove ci mettiamo? Eh... Il mid presente... Aspetta. Un posto che non è molto frequentato? Non c'è? C'è un brand deck tower. Ho capito. Il mid, il mid. Dov'è il mid? Quale, quale? Vai al centro che ce la porta al centro. Porta al centro. La porta al centro. Sì. Ecco, aspettami che sono muovo al torrivo. Sono sulla torre. La torre non è un posto. Sono sul... Sono sotto il coso della torre, davanti le pietre. Non so se mi riesci a vedere. Aspetta, ma dal tuo lato o da quale lato? Allora, in pratica, aspettami, io sparo dei missili. Guarda. Li vedi? Ok, lo vedi. Sono qua dentro io. Dentro... Sono... Dove c'è il soffitto dell'entrata di sotto e sotto il pavimento dove sei te. Vai sulle rocce. Mi hanno ammazzato. Mi hanno ammazzato. Qua? Ero praticamente sul... Come si chiama? Sul tettuccio dell'ingresso che c'è dietro la torre. Davanti la torre. Aspetta, come te lo spiego dov'ero? Ascolta, seguimi me. Non è che... Ero sulle tegole. Vai al centro ed entra nella porta. Ero sopra la porta io. Cazzo qui. Ti vedo, ti vedo. No, torri indietro. Torri indietro. Dove? Qua. Aspetta che sono... Siete? Sì, sono io. Come? Ok, Airblast. Airblast, Airblast, Airblast. Vado subito, ok. Merda. Aspetta. È un casino. Ok, ho 41 di vita Airblast. No, dai! È che mi ha ammazzato. Ho 28 di vita Airblast, mica, adesso. Eh, sono tipo morto. Ascolta, entri in quella cazzo di porta. Ma è raramente che entra qualcuno. Sono morto. Quando mi ritorni in vita. Stanno spingendo i rossi. Chi spinge su Hightower? Anzi, sai che vuoi Hightower dopo, figurati. Eh? Ma entri in quella porta. Oh, aspetta, buon casino, mo'. Vengo io. Aspetta che li ammazzo. Però li catturano. Non ne mischi, non so se sono fuori, però. Cazzo, non gioco di morto. Che sei? Aspetta che sono fuori dal tuo spawn. Esce a giocare. Dove sei? Di qua. Airblast. No, aspetta. Airblast. Ok, Airblast. C'è la porta chiusa. Aspetta un secondo. Allontanati, Airblast, Airblast. Eh, come cazzo, aspetta. Non li prendere in faccia, vero? Scusa, dobbiamo stare in piano, così come cazzo faccio. Airblast, io cerco di spararti lontano. Cioè, cerco di non colpirti. Dai, non posso chiaro. Aspetta. La torno in mezzo, vai nella torno in mezzo. Non posso, c'è troppa roba. Mi ammazzano subito appena esco. Com'è la situazione nella mia zona cecchini? Io sono fuori dalla sua torta. Ok, ho 14 HP, dai. Seguimi. Dai, Airblast, Airblast, Airblast. Eh, cioè, sono troppo vicino. Eh, Airblast, Airblast. No, sono troppo vicino, non riesco. Aspetta. Non possiamo stare qua. Ho 14 HP. Curati, adesso ritorno. Incontriamoci, se dice, da arrivare alla torre quella centrale, quella però verso dentro, con la tua vita. Sto morendo, aspetta, dove? Quella vicina al burrone. Nella... Eh, ciao, sono qua. Qua dentro? Sì. Ok. Aspetta. Airblast. Oh. Quanti? Ci sono anche, aspetta. Cosa? Mi ha usciti due. Mi ha uscito qualcuno. Ma sono cist. L'hai finito? Non ho capito. Quanti te ne mancavano? Ho capito. Quanti te ne mancano? Hai finito? Aspetta, intanto... Vediamo se lo sciavamo. Se stiamo ancora in questa situazione, in squadre diverse ora posso farla io non te ne mancherò più quindi fammi capire ma mi manca mi manca ancora quello del termo al thruster sì ma questo l'hai finito sì ok quindi ora lo faccio io vado paro io si fa su the group keep e come facciamo air blast su the group keep scommettendoci a giusto disconnect live fatto che occasione ora quando la facciamo più questa occasione vabbè vediamo facciamo intanto quello della banana ok vediamo cosa esce che non sia il tower di nuovo e c'è quella che deve ancora spegnere col termal thruster e c'è anche quella ancora da fare quella dobbiamo essere nella stessa squadra tanto dobbiamo fare in quel modo uno medico e l'altro è l'unico modo più che altro finché sono le squadre piene di paero l'unico modo è uno medico è uno col paero però a me prima i contratti le manteneva attivi anche cambiando classe non capisco perché cos'è successo cosa prima i contratti mi restavano attivi cambiando classe forse perché anche quello di spegnere le persone te ti hai rimesso medico ma non ti aveva messo il contratto in attivo infatti quindi per questo io ero convinto con levi vai medico e mi curi di nuovo turbine vabbè dai perché sconebre le solite neanche ci forte è uscito per fortuna almeno quello bevi evi evi cazzo non l'ho attivato il contratto e me lo rimetto anche io ok activate activate 5 su 30 devo quindi fare ancora curare gente con la banana e prendermi le danno in una vita sola si quella poi ci mette uno si mette medico si contratto in attivo perché ma funzionava prendi la banana prendi prendi la banana ingegnere del cazzo non c'è halloween qui perché non c'è halloween non ho la voce profonda si halloween ma devi curare gli altri non conta no prendi la banana prendi la banana grazie aspetta un secondo sono sul battlefront sbagliato ok mi stanno aiutando con un evi 8 su 30 scusa è vogliamo farlo velocemente questa che pensavo adesso un modo proprio per quello che è bloccata aspetta mettiti soldato soldati da solo io ti lancio le banane come è bloccata io non si blocca il sì dopo è contratto come prima se cambi se cambi se cambi e vieni lo stesso ok ce l'ho ancora attivo che allora sparati i piedi se lo ha banano sparati sparati vabbè vabbè ok vai vuoi andare Anche a me gli sta contando, è ancora attivo Ma è ancora Perché non sei ricercato? Vai che non ho tutta la vita quando mi curi Perché la banana è quella di meno Infatti lancia, lancia Con un singolo colpo me ne dai di più, dai Ok Non ti ammazzare Farati una sola volta Infatti sto facendo, vai Dai, 21 su 30, vai 22 Anche a me gli conta, vai vai Che geniale Stupenda, perfetta anzi Vai È mancato Banana è al rocettaro, vai Andata Ok, ora quella dei mille danni Vado medico, aspetta Medico? Sì, ce l'ho ancora attivo il contratto, vai Ok, allora Quikfix No, quella normale, la quickfix c'è il suo che moriamo poi Mettiti la da locust bar, fai quel glitch Eh, mo' Siamo troppo Siamo ancora all'inizio, vai Subisci danni Hai bisogno della banana Ma ti tira da loco Ma c'è tipo una sentry a qualche parte da cui Abusare No Catturiamo Eh, se catturiamo poi finisce, no Catturiamo Non dobbiamo catturare Andiamo A culo Chi ti ha detto che continua a uccidere il medico Nelle combo ammazza sempre il medico Prima Dai cattura intanto, cattura Eh, c'è un piccolo problema a te Sto arrivando, sto arrivando Vai cattura, cattura Eh, aspetta, non sparare Quanti danni subito finora, come lo facciamo a contare Levi, levi, levi Sparami Ti prego, sparami Ok, vai Mi sta sparando troppo Aiuto, aiuto No, mi sparo Dai, ammazzalo Ma io voglio che mi spari Ammazzalo Ma non fa sparare me le sue di due Si fa così Pensavo che mi sparo Ho l'Uber pronta, andiamo No, no Non serve l'Uber Devo farmi male Vai, scurami Sì, come siamo rossi Ma dobbiamo farti male Ho capito Ok Non hai un'arma che ti danneggia mentre I guanti Vero Andiamo lo spawn Con gli guanti e ti curo Scusa, eh Hai avuto l'idea geniale prima Usa Falla di nuovo Ok, andiamo Andiamo i guanti I guanti Non penso che ci voglio far male Cos'avevo fatto a non pensarci Dai È vero che adesso i guanti ti feriscono Non sono più Si può curare Sempre Non lo so, vediamo Intanto comunque c'è l'arma dietro È vero Che proprio prima che arriviamo mille di danno Eh, scusa Non l'hai mai pensato Non c'è ancora pensato Prima che arriviamo mille di danno in una vita però Vabbè, intanto Prova Aspetta No, aspetta Aspetta Fermati a curarmi un attimo Perché? Voglio vedere se effettivamente Cosa? Ah, però io c'ho un nuovo effetto sonoro Quando ti smettono di curare Ok, cura Sì, ok Mi sta facendo Ti fa danno? Con tab non mi segna cura però In healing Ma perché? Con tab ti segna danno Eh, ma il danno non ti indica il tuo stesso danno Indica quello che fai te Aspetta Non lo so Aspetta, aspetta Facciamo così, va Cos'è? La locos? Sì Eh, usa il glitch, vai Ok, così 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 E poi la mangi di nuovo E poi ti tieni la minigun E dovrebbe aumentarti Ora tieni la minigun Tieni la minigun Ti aumenta? Sì Ok Ora Mangialo di nuovo E tieniti la minigun E va aumentando Vedi? Ora Continua ancora A me a 500 è arrivata prima Forse anche a 600 Ok Forse devi switchare un po' Eh, infatti Te lo devi Però il danno lo subisci così 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 E adesso qua mi indica 100 Però mi sa che veramente 100 Fai così E poi tieni l'arma Che non ti danneggia Tipo La La minigun Ecco Tipo la minigun O anche la cioccolata stessa A me aumenta Vedi? A me sta aumentando A me ferma 100 Però devo Probabilmente mettermi Ren Deve fare così Non capisco però Cos'è che causa questo glitch Boh Doctor medic No Andiamo Ok ora funziona Beh è una vita che sta crescendo infatti Però mo Anche io Eh devo aspettare che pesca Probabilmente Però ti ammazza Eh sono già morto infatti Aspetta che cresca un po' Prima di L'ultimo punto manca dai Cazzo Mille danni Però E' già finito L'idea comunque è quella dei guanti E stare nello spawn Usiamo il medico Facciamo più perché Non riusciamo a arrivare Perché due pyro Anche che dobbiamo completarne tutte Aspetta che lo spawn Aspetta che lo spawn Si Boh mi tenghi i guanti Quindi nel caso Nel caso vai veloce Ma peraltro nel caso Dove sei? Sto responando Aspetta Eccomi E' ovvio che si è una spiglia Ma cosa d'è la spiglia? Con quel Ecco Vedi con quel vestito E' ottimo Sì Proprio da metallaro Eh dai Che vuoi morire Ma che l'ingegnere Scusa E' ingegnere E non mi hai detto che c'era l'ingegnere dietro Ok ho finito Una bottiglia d'acqua Dove sei? Dove sei? No no Merda Spera mi stai seguendo un po' Merda 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 Andiamo Tieni ti i guanti Quando Forse i guanti Non vengono considerati come danno La vita ridotta dai guanti Non lo so Perché Non c'è un counter Di questo punto Non si può capire niente Neanche si può capire Quanto manca Sta mancando malamente Non come manca Ma quanto manca Defele farla mi temo E non spalare nessuno Spera che non spalino a te No 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 Questa la prendo con la freccia, vero? Prendi la banana, prendi la banana Dove sei? Dov'è? Sono lanciata Dov'è? Eh, l'hai già presa, mi fa Tu stai dietro, tu stai dietro Perché mi hai uberato? Sto morendo Stiamo più, guardi Devo curarmi Ok, fatto, dove sei? Dove sei? Non morire Sono davanti, sono davanti al mio Mi stanno mancando Oh Perché c'è un heavy che sta defluttuando? Questa fa che è greciatissimo E riusciamo a fare almeno uno su tre Sniper Oh, è un punto, vai Grande Eh? Non penso che Quei paio non ho capito ovviamente Di uccidermi sul serio Pensavo stesse con la molla Un paio Un punto Ha funzionato Che devo fare altre volte Altre due volte Semmai Altri due mila punti Altri due mila danni Andiamo? È funzionato, dai Più che altro è che Mi hanno preso la banana Vai Detto così è bruttissimo Medico Blu Uh, ce la senti Ti ammazza la senti È un po' Io ho capito Eh, sto morendo Mi curo Aspetta, sto morendo anch'io Però c'è una Faro, dietro, dietro Combo, combo Andiamo Ammazza, ammazza No, ammazza Non perché ammazza Ma è un po' Questo è un po' Ok Siamo a due Altri mille danni, dai Ciao, se entra ancora Sì Sì Tu stai dietro Ingegner Voglio più Tanto morendo No, 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 no Andiamo, dai Andiamo Andiamo Sto morendo Sono morto E io stavo morendo Proprio Io sono morto No No Vabbè dai Allerò Ok, la prossima Ammattano No Ti guarda Ah, sai due Due su tre Due su tre Almeno, dai In das olhar Sì Eh Questo Sto Due su tre Dai almeno ancora uno turban turban perché perché funziona bene con la sentire costruisce un'altra sentire la siamo posto anche anche barblitz però la barblitz e già con l'attacco difendi abbiamo così nightfall era il po posti vabbè suca sui tablet del referendum in lombardia gira anche doom giustamente referendum 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 io voto cyberdemone chi è che non vota cyberdemone votiamo tutti cyberdemone votiamo tutti sa ibi sa ibi for president perché prestiamo con la stessa tattica dire si sia funzionato all'ultimo da mille punti ancora e c'è mille danni e aspetta contratto inattivo in pratica quindi finché non finché finché non moriamo disattiva il contratto dopo che moriamo una volta il contratto rimane attivo forse non credo non lo so poco fa funzionava ed ero medico provo a metterti medico ce l'avevo attivo poco fa no è inattivo e infatti dobbiamo forse devi attivarlo riattivarlo rimettiti come evi e riattivarlo è attivo come evi poi torno medico ed è inattivo forse bisogna attivarlo e disattivarlo come abbiamo fatto prima aspetta faccio io no non credo facciamo aspetta forse perché forse perché non era ancora partita la partita no ascolta chiediti bene eh sono evi aspetta cambio allora ho ottenuto un altro contratto dal jungle update adesso mi metto io come medico vediamo se funziona sono evi no ancora si ok attivo mi metto medico no è inattivo te l'ho detto dobbiamo giocare e morire almeno una volta e poi rimane attivo cambiare personaggio quando mori no 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 non lo fai perché non disegna il punto allora aspetta devi lei mi ha avuto un infarto troppo grasso andiamo aspetta io sto non è detto tutto è uno che ho il posto di riscrivere è tutta la divina commedia con bur d'art ok sono morto aspetta sono morto sto cambiando personaggio da morto no aspetta sono morto sto cambiando personaggio ora che sono morto vediamo se ora che mi respona ho il contratto ancora attivo se funziona tipo glitch forse ehi no inattivo non so perché prima funzionava poco fa ha funzionato pure non possiamo rifarlo allora ho paura poi l'altro è per forza a sto punto perché ricomincio inattivo a te a me è attivo ma io sono no ho provato già a cambiare me in tipo dai facciamo come prima intanto lo faccio io poi metto io medico lo faccio ok perché a me non lo conterà sicuramente troppo alto a me non lo con il medico con la banana guarda e come c'era c'è un corpo di danno mistilozzo si chiama l'arma di quel tizio è che c'è il piano cicciolo batte vita mistilozzo io blackball sono morto mistilozzo da merda io ho scritto in jazz ok abbiamo già vinto che palle vabbè meglio no meglio non so ho ammazzato il mistilozzo vabbè meglio no l'ha reggiquittato mistilozzo tab l'el ok egip egipti si può fare no no stiamo sul turbine egipti è piena di sentri no si non sei sui punti anche dietro i muri c'è uno che si chiama unconnected non si chiama unconnected anche l'immagine del profilo what the fuck si chiama proprio unconnected ma non c'è neanche la medaglia alcuni non hanno la medaglia ma perché non lo so ma anche mentre siamo in gioco alcuni non ce l'hanno con il tab allora perché mi disattiva il contratto quando cambio class perché non ho capito adesso va come adesso va io sono heavy e me la me no inattivo sono medico è inattivo poco fa funzionava ma è un glitch cos'è sta roba probabilmente il fatto che noi possiamo fare questa cosa è un glitch perché sennò veramente mi sembra troppo non lo so nemmeno io poco fa funzionava inattivo cambio cambio coso attivo attivo questa ad esempio mi metto avevo il termaltraster attivo col medico ora l'ho visto per un attimo termaltraster ho quella del termaltraster attiva col medico aspetta prova adesso a mettere quella del heavy ecco ho metto quella del heavy la puoi attivare come è inattiva ora aspetta faccio una cosa disattivo o reattivo quella del heavy adesso di nuovo è un glitch allora il fatto di essere attivi con le tre classi ha sempre funzionato finora dobbiamo muoverci però perché di nuovo non ci riuscivano un po' di danni in fondo o speriamo io un'altra volta nel fatto nel no non funziona più vado come facciamo non lo so dobbiamo fare una volta per turno eh aspetta metto io merito tanto manca a tutti e due sono mille danni una volta io una volta te di nuovo eh ho capito poco fa almeno due le abbiamo fatti subito dai ma non ho quelli tu non cerca di vai cura cura eh cura cura però aspetta non andare neanche completamente che sei un po' ok attenzione solo a non prendere troppo danni una botta sola perché la medica non è cosa la quick fix eh ma la quick fix è cura di meno però è quello è più veloce a curare però cura velocemente cura più veloce ecco aveva critico ma va a far culo però cosa? dai che falle vediamo se non funziona ho messo la quick fix metti la quick fix è più veloce dove sei te ok quick fix si cura ancora di che è meno venito però eh attenzione cura più velocemente quello ho capito però cura più velocemente non ti scospargere di benzina spero che ti puro però non fatti stai davanti a quel peccino oh ai luglio che è il nado dietro 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 sto morendo sto morendo sto morendo cura di curati aspetta ok ce l'ho fatto da un cazzo la cioccolata come moria per il fusilo ti ha curato come no oh l'uver ok usa la pena vedi che siamo nella merda ricordati che questa ti fa solo l'overim maggiore però non ci sta non è bastato vero no per niente perché non funziona più il glitch se è un glitch perché poco fa aveva il telemaltraster attivo col medico cazzo è a me in attivo contratto disponibili attiva contratto inattivo è anche a me fa poco fa funzionava ti giuro che funzionava non so ma non ho capito perché forse per quello punto dello specifico cazzo ci servirebbe se io metto quello del termal thruster e cambio col denomain si cosa quello del termal thruster funziona infatti ma infatti quindi forse sarà proprio questo dello specifico che non puoi cambiare classe ma poco fa funzionava poco fa ha funzionato io ero medico avevo il contratto attivo infatti io ho due su tre di mille d'anni poco fa ha funzionato anche prima quando io ho fatto il soldato e mi lanciavi le banane il punto delle banane mi era dato anche a me perché me lo dava anche se ero soldato che palle boh questa dovremmo farla in tre uno che fa il medico e noi due cioè in quattro eh questa dovremmo farla in quattro due medici e noi due heavy no sarebbe ancora più ideale fossimo uno con la squadra dell'altro no aspetta non potremmo fare un ca no sarebbe più lenta però sarebbe possibile ci fosse il balance il balance e come o facciamo veramente riusciamo a trovare il modo per fare sto exploit decentemente è poco fa funziona eh dobbiamo giocare di fare quello con la cioccolata aumenta la vita però proviamo non lo so basta che lo facciano le due alla fine noi siamo entrambi heavy intendo che senso che finchè siamo entrambi heavy basta che uno dei due riesca ad arrivare abbastanza da ricevere mili di danno e infatti ma come cercando di far funzionare il sandwich che eco attenzione spostati mi sta salendo la vita mi sta anche salendo ma quanto sei te? 270 300 è meno di quella base è meno di quella base 350 aspetta che cresca le tue adesso prima di uscire perchè stanno spawn camperando e ci ucciderebbero immediatamente se la rice passa lo abbiamo aggiunto insieme eh per forza proviamo ancora una volta vediamo cosa succede ok quanto siamo vediamo che credo che cresca ancora un po' ok via a me sta dando a 400 però a me 340 a me sta 350 forse non dobbiamo ricevere danno mentre si alza no si è fermata a 400 a me ha 350 sono così mordo ancora niente troppo fuoco troppo fuoco sono troppo morto dobbiamo subire danni ma non morendo quello appunto senti a questo punto se cerchiamo di subire danni e ci curiamo col sandwich però arrivarci fino a 1000 è quello il problema arrivare a 1000 e tanto 1000 eh ma se già stiamo con i guanti perdiamo tanta vita e poi ci curiamo tipo già così sono già 100 100 100 fatto poi 10 volt non so se sta funzionando però non credo non credo consideri come danno quello che c'è dobbiamo se no giocare e sperare che capiti per caso eh eh beh l'unica è quella no eh in un payload sarebbe perfetta questa no comunque è poco cosa ora comunque troppo poco sì ma Levi alla fine è una classe tank Levi è il tank alla fine in termini di evy avrò ma il team è killing me stavo andando per forza come di noi due no perché è rosso è vero oh killing spree killing spree devi ricevere danno ho fatto una killing spree vabbè ti cura però tu comunque cerca giochiamo normalmente però sto giocando normalmente nel frattempo subisco danni e mi curo l'idea è quello no no vai 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 perché io sto quasi finendo così lo ottieni anche te vai 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 sei sicuro sì sì sta funzionando sto subendo un po' di danni e mi vado curando con l'arma dietro sto facendo così farlo anche te che cazzata 862 danni me da me da me da curati curati dov'è il bastardo forse è morto no vediamo normalmente grande che non conquisti ho capito quanto davvero hai preso finora non lo so non si può contare mettiamo quante volte sei andato al limite della vita neanche non lo so non li ho contati lo sto solo facendo stanno catturando no ammazzali non fare catturare dobbiamo catturare noi anzi catturiamo noi non morire per il momento tra i due sei tu quello più vicino a raggiungere i mille in il momento sì ma non c'è nessuno qua aspetta vieni qua dove c'è oh merda cazzo 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 sto morendo sto morendo sono morto non ho subito abbastanza danni parami ma si fa sto exploit dei contratti la funzionava ok sto leggendo troppo poco ora curati 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 cazzo di banana mangia pensiamo a noi stessi a meno che non abbiamo proprio perfuro gli otterremo prima o poi mille danni ho ucciso uno tanto levi e tank dobbiamo difendere ma dopo potremmo una tentica fosse blu ma è buono di cazzo però non c'è un dispenser cazzo 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 di dispenser arriva morto damon man ok morto era dentro stava quasi catturando però l'ho ammazzato ho 21 hp mi son curato adesso ho un po' di fiamme potis potis usare la mia classica mi ha preso mi ha preso una bomba l'ho fatto malissimo aspetta via 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 ok blocchiamo le bombe non è una buona idea se sono critica e poi tanto anche colpendoci normalmente ti metti davanti alla sentri c'è ora un dispenser ci vuole io lo sto dicendo non è nostro quello no spiro adesso vedo lo danno senza non voglio ok dispenser finalmente oh sono cecchino il cecchino non mi piace il cecchino non mi piace come credo ho diffuso l'intelligence cos'è il robotic flame sarà un giocatore nice try robotic flame è l'intelligence lo sniper non mi piace è quello il punto dicevo sapete che la mia miniganne è killstrip ho preso in pieno sei morto merda sì ma c'è ma c'è ma fatto l'headshot io non so quanta vita mi manca per io sto nella stanza dell'interno perché potrebbe arrivare dall'altro lato ma infatti a me piaceva qualcosa prima che stavano attacchiere la sentita lì davanti sta arrivando dall'altro lato potrebbero arrivare dalla parte dello spawn e prendersela mentre lo stanno facendo ho ricevuto un bel po' di danno è la prima volta che godo il cielo mi dica ho un medico ho un medico troppo troppo sono morto no dai ok sono morto se ricominciato da capo io ho ricevuto un bel po' di danno abbiamo un medico hai un medico eh ma non so se poi hanno preso il tempo si ho ammazzato l'ho ammazzato l'ho ammazzato difendiamo un attimo qui difendiamo l'intelligence difendiamo difendiamo giochiamo l'ho salvato io cioè ho preso quella banana difendiamo difendiamo qua aspettiamo che l'intelligence torni al suo posto io nel fatto un po' di danno me lo sto pigliando anche io però è quello il punto difendiamo subiamo danni arriverà prima o poi noi giochiamo arriva da solo abbiamo ordinato il contratto aspettiamo che arrivi è in consegno ok ok fatto 3 su 3 perfetto andiamo adesso non so chi dei due forse te ci devo staccare di partita si io continuo con levi però andiamo mi sta bene levi mi sta benissimo levi andiamo merda vai medico vai medico vai medico dai aiutami sono unico levi non sappiamo come le stazioni di lapica è solo l'unico tank vieni medico e andiamo ad avvicinarsi alla valigetta metto merica metto medico si facciamo la comu tanto ormai ora possiamo giocare finalmente ora possiamo lanciami lanciami qualcosa aspetta che lo prendo ok mettiti per favore mettiti la banana lo planino fa un cazzo il cioccolato data qualcuno fatto c'è un mail c'è un paio di radi la qua chiedervi te vabbè consegniamo dobbiamo fare ancora quindi quello del thermal thruster adesso dovrebbe essere più fattibile però dai ci sono meno pyro generale si thermal thruster su forza dai dopodiché andiamo in medievale facciamo gli schiaffoni ma ancora due ce ne mancano quello del pyro è tra il thruster e l'altro no perché l'altro del pyro quello dei mistili riflessi ah è vero non l'hai più fatto te io no ancora io ancora no eh vabbè facciamo tanto quello del pyro del pyro del pyro o del thruster del thruster si vede tra questo il pyro a me manca ancora quello dei mistili riflessi perché io non ero cioè è vero non l'avevo più fatto me ne ho scordato non me l'aveva attivato era inattivo ok sono col thermal thruster io devo promettere oh no ah no tu non c'ho ah no tu non c'ho era difficile era difficile si ho fatto un airbus con non ci credo dai cosa ho fatto l'airbus alla palla di fuoco del pyro col thruster quindi si può si però non l'ho preso che ho preso fuoco non l'ho preso però ho sentito il suono l'ho fatto l'airbus vai è morto è morto mentre facevo il check ok si possono air blastare i proiettili col thruster si vabbè però ho sentito il suono però non l'ho colpito però l'ho sentito il suono quando air blast i proiettili stiamo vicino a qualcuno che ok no si pyro dobbiamo stare vicino a qualcuno che è infiammabile infatti è infiammabile è medico è visto che il contratto vai a prendere fuoco dei momenti visto che il contratto del thermal thruster non si bugga come gli altri rimane anche con gli altri personaggi io mi metto medico e mi faccio dare fuoco che? ho preso solo io fuoco eh aspetta sono sei un pyro ok ho il contratto attivo non so perché con questo funziona dove sei? tra i condotti di ventilazione no non ci sei si quello dell'altra squadra ah non c'è nessuno non ci sei nemmeno qui sto scappando da uno quei critici dove sei? sono allo spawn no dove cazzo sei? dove sei te? dove sei te? sei un medico? si vedete sono qua aspetta è quello in fiamme non ho la carica pronta non l'hai preso non c'è un'arma che mi può dare fuoco da solo aspetta non ho la carica non ho la carica torna indietro vai vai ok 5 su 30 non c'è un'arma che può dare fuoco a se stesso no c'è un detonatore ma il detonatore sei in pyro quindi aspetta ok 6 su 30 vabbè tanto che porto sono morto c'è una spia col mio nome c'è una spia a me sono morto vabbè comunque c'è una spia a me eternal reward è un coltellino che in pratica quando ammazzi qualcuno ti fa diventare quello che ammazza si però adesso puoi anche comunque scegliere il travischimento si? si andiamo pyro il muchacho io propongo di a distruggere le sentry non so io non l'avevo visto e poi sono un pyro solo un lanciafiamme e un cazzo di jetpack e spara io spara io spara io in alto ci arrivi dei salti puoi saltare con il jetpack cosa ha questa spia in mano? il contractor quello per le missioni guarda lo faccio anch'io lo fa? no allora non lo capisco lo so forse quando hai le missioni no le missioni quelle forse quelle del pass prova via eh adesso non devo ancora abilitarle facciamo questo l'hai già abilitata l'hai fatta una devo cambiare missione ora per vieni qua vieni qua no no non ti prego vieni qua perché aspetta tu stai indietro mi hai chiesto se voglio andare nell'altra squadra che? se posso andare nell'altra squadra vai 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 però aspetta sì sì giusto ok io vado paio adesso e faccio faccio quella e chi diamo fuoco però a chi diamo fuoco no intanto quella dei missili devi ah dei missili giusto devi andare devi vendere soldato e dove ci vediamo però questa mappa qua è nei condotti di ventilazione quali? i miei i miei i miei non c'è nessuno devi andare soldato io devo farla soltanto due volte tanto se ci riusciamo attento ai cecchini c'è un cecchino ammazzalo aspetta un secondo è il suo ciclo di ammazzare il cecchino è il blastalo il tuo sparo è il blastalo dove? vai ok ok quell'arma fa schifo mettiti quella normale è un colpo normalissimo anzi pure più lento ho pensato di farti un favore ma non è come il lancia il bazooka è più lento è più lento anche si allora riprovo aspetta non lo sapevo ho fatto il timing ho fatto il timing come il lanciamistri classico non pensavo fosse così lento perché era il colpo caricato dove sei? sto tornando sperando di riuscire c'è uno scout attento scusa aspetta vai aspetta quello non aspetta devo tornare che tal ora capiamo per quale motivo non si possono fare sui server privati questi sono sono sul nel condotto ok aspettami lì ammazzano tutti quelli che vedi tranne me al prossimo turno ci riproviamo con il termo no dai adesso ci ritorna di nuovo entrambi nella stessa squadra forse no è il turno che è finito no è finito ah la prima non c'era l'opzione quella che ti diceva rimani con lo stesso party ah no era overwatch quello sì ok oh guarda un po' che mappa ha votato ah chissà perché non ci fu forte che non c'era neanche prima quando c'era chissà perché non ci fu forte sì ma l'ultima questa mappa basta finché la squadra è buona ho droppato qualcosa è che ho scappato di avere un altro server fino di file ok sei ancora un nemico vai sì vai rocket ok vai rocket l'uomo razzo vai rocket non sei te quello mi riconosce mi vengio con la piste aspetta 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 ok aspetta vai 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 non si riblastano si si arblastano fitte usano i missili normali non riesco a dare riblastarli eppure gli sparo facendo usi missili normale usa quello normale uso il comangler ma solo normalmente usa quello normale il bisogno si rblasta il bisogno c'è rblasta e forse comando nemmeno ma come non funziona fidati a meno che non ha cambiato qualcosa non lo so leggi le statistiche stanno arrivando tutti quanti dal condotto attento che è il blaster c'era il paero davanti stanno arrivando tutti quanti per il condotto japan jimbo bizzarro adventure sono al condotto io sono morto c'è un demo meno non andare al condotto 10 secondi aspettate aspettate ad andare al condotto dove ci incontriamo sta mappa è è piccola io sono al condotto c'è qualcuno sotto per caso nell'intelligence si probabilmente sono al condotto ok arrivo sono morto e che pare non morire che pare non morire mi sparano dietro ho preso fuoco non mi posso auto spegnere posso spegnermi col jetpack si però non ok fatto fatto e se riesci a spegnere qualcuno col jetpack ti metti che ci sei eh no perché ho questa questa attiva ascolta come faccio a raggiungere la tua non lo so a parte che abbiamo i crinici non più devo tornare dentro sono uscito un attimo ho già sortito in un punto di vista non è possibile far questa mappa sto lavoro che mappa in ciò forza senti facciamo il thermal thruster intanto anche se siamo in due squadre diverse vieni rosso non posso più cambiare non posso cambiare tu prova a stingere la gente comunque se vedi se vedi che ci sono io nelle vicinanze è un altro mio compagno di squadra da fuoco a quello ok mi sono attivato il thermal thruster quanta cazzo di mi sta usando il glitch fanculo l'hai usato il thermal thruster? non posso ascolta al tuo spawn c'è quel leddy gigante quello con la vita tantissima vita proviamo con quello ah bene buono al nostro spawn scusa al tuo? si dagli fuoco io lo spengo ed è un hacker cosa? ed è un hacker probabilmente dagli fuoco io lo spengo dai cosa stiamo facendo? dagli fuoco non prende fuoco oh non prende fuoco ok ah ecco ok vai ma stai 5 su 30 comunque me l'ha contata aspetta aspetta è ora te l'ha contata 6 su 30? no sono 8 io ok siamo in squadre diverse non le conta niente non ne vai da pena farlo così perché sennò dobbiamo farlo due volte ma infatti boh senti cambiamo sera ok leave non ci banna no ho un oggetto ho trovato una tascia riproviamo niente capture the flag ok vediamo su un altro server boh quindi in squadre diverse non conta non conta i contratti anche se siamo nel party ah ho già trovato si abbiamo visto di nuovo itau vabbè buono 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 c'è spazio è grande più o meno è all'aperto finisce stalemate il 90% delle volte no vabbè in cash hall però si gioca non c'è neanche la parità non c'è il tempo si gioca si gioca sinceramente qua allora torniamo torniamo col thruster qua ah però è il thruster se c'è il cambio di squadra da fare uno dei due lo accettiamo si perché qua si può fare quel lavoro aspetta che qualcuno pigli fuoco minuto già partita è già partita la partita non non conquistiamo se no c'è uno c'era un soldato c'era eh potevo airblastar però non ho contratto attivo dammi lanciafiamme ho perso la fia perché ho perso la fia perché ho continuato a cambiare mia arma o se no io mi metto il lanciafiamme normale a me mi sta piacendo il dragon fury si però non capisco ancora il range ok ok c'è un c'è un pyro l'ho ammazzato adesso non devi ammazzare il pyro dell'altra squadra scusa abitudine è rosso l'ho ammazzato per abitudine payroll possiamo fare quello del levy del danno ah no l'abbiamo fatto non c'eravamo prendere fuoco no cosa no poi tu puoi prendere fuoco così spontaneamente no non c'è quello quello man manor non c'è tipo il cammino col fuoco no c'è c'è forse però quelle di allumin non portare non possiamo andare dal tema su quelle di allumin mappe in cui puoi prendere fuoco custom ce ne sono qualcuna ma custom si sì infatti io stavo pensando se c'è qualcuna nel gioco aspettivo snake water forse no 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 snake water non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla borneo non c'è nulla borneo ero in fiamme ero in fiamme ero in fiamme non c'è nulla non c'è nulla c'è nulla per tutto c'è nulla per tutto la casetta la solita lo aveva fatto io dove l'ho fatta io dove? dove? quella al centro dove c'è i medici aspettate che c'è un heavy prendi l'uscita di lato quella lunga non ti sento c'è uno che grida aspetta ok dove? allora la casetta la casetta non c'è l'urone ah si giusto adesso che vuota ne approfittiamo sono morto sono morto è difficile uscire dallo spawn senza morire guarda che riprovo ok ok sto arrivando c'è un cecchino ammazzano no un cecchino nostro intendo ammazzano non posso ammazzarlo ok aspetta è un day moment allora se vieni qua ah se te scusa non dormi vai vai basta lo è lo è bastato però sì ma non c'è nessuno è un po' difficile aspetta se no andiamo dietro dove? cioè lei vi aspetta nell'inferno dall'altro lato cioè al mid dove c'è il mid che ce la porta sempre quella sono morto ok sono lì dentro e io devo aspettare che sono morto io ho pochissima vita aspetta che sto morendo sto arrivando aspetta che sto morendo devo andare a curarmi fanno culo vaffanculo scout di merda dove sei? e sono morto sono sti cazzo di scout tre scout sono nella casetta abbandonata sono nella casetta abbandonata vieni qua sul borrone ok non c'è nessuno vero? no 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 io veloce però sta arrivando il cecchino mi sa te lo ti avverto no non c'è sta arrivando non c'è non lo vedo è qua sta cercando di spararti quindi cerca di stare stai in fondo vado? sono qua vai 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 veloce veloce vai veloce vai ok ancora non me l'ha segnato non li segna forse non li contano come proiettili usa quello normale usa il lanciamissil normale non li contano non l'ha contato ancora due su quattro si può uccidere qualcuno così che? può uccidere qualcuno con l'air blast solita casetta solita casetta vieni vieni ti dice già? si c'è uno scout però aspetta c'è un demoman ammazza il demoman se odo si scappano ok vado vai 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 ok questi li contano questi li contano ancora un'altra volta non lo finisco bella mira ancora uno questi li conta il cowman non lo conta come proiettile forse non so perché non so perché ci sono conquistando proprio adesso speriamo che si sta fermando aspetta un attimo fermali fermali sono morto ok a posto fangulo demoman oh è morto arrivo fangulo sniper muori ok sono alla casetta dai sto arrivando 5 secondi vieni al covo vieni al covo dai oh che bello vieni al covo dai tu sei al covo ok dai muoviti muoviti vai veloce f***a f***a oh finalmente ok adesso giochiamo cioè metto quella del thruster di nuovo adesso dobbiamo tornare nella stessa squadra no aspetta quella del thruster la metto dopo prima devo consegnare questa infatti tanto giochiamo normalmente per ora poi cambiamo adesso giochiamo abbiamo server perché dobbiamo ritorno in una stessa squadra quel thruster sì sì quando finiamo facciamo di risconda che ti catturiamo no non ti non vi distrago sai che ricatturare non ti distrago perché mi hai sparato allo mi hai spinto oh ah ho fatto il thermal thruster mi hai spinto con il jetpack non vuole no dai scoutman north scoutman north scoutman north e boh niente si gioca ah non è una townkill non è townkill non è townkill è una townkill è una townkill si ah bello ha anche un'icona custom si dove provare non l'ho non l'ho vista l'icona attenta capito vabbè questa si può fare questa si può fare nei server privati se riesce a rifarla perché c'è un medico che si è messo volontario se riesce a rifarla guardo la eh lo porto perché c'era uno che dove sei sono morto sono dietro di te se vuoi provare stavo facendo sono morto vabbè cambio finalmente si gioca con un altro personaggio te continua col te ma vabbè non ha senso almeno non le conta ah è morto è molto più difficile fare una townkill così però bel colpo ah mi hai visto no questo è un headshot questo è un headshot cosa hai preso ah lo sniper sulla tua balconata fai conquistare però se dovesse arrivare quindi cerchi di conquistare fai conquistare ti prego finiamo mi senti proprio là però ce l'ho detto io difficile anche aiutarsi a squadre a squadre diverse ma sei te oh dio fammi la eh aspetta c'è un paio non stavo dietro erica c'è un troppo mi fa fare un cazzo è perché qua si gioca è guerra figlio questa benzina aspetta ho visto se te dove sei? se ho visto un qualcosa con un cappello verde qualcosa con un cappello verde si 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 aspetta metti seguimi vai vai ma che cacca cazzo che scout non me l'hai fatta mi ha ucciso lo scout ok aspetta che consegnano la quest questo scout è cacca cazzo mi piace scout cacca cazzo the best ok dobbiamo fare solo quella del cluster allora cambiamo no cambiamo cambiamo sempre dobbiamo essere nella stessa squadra mi chiamo più difficile ci rimane mi sa eh sì e poi vabbè quello dunque andiamo un po' mettiamo soltanto le mappe nuove ci sono delle mappe nuove che non abbiamo ancora provato forse erico sei talmente brutto che tua madre ti chiama bello di zia il tuo gatto è il tuo gatto è tic no il mio gatto è grasso no è tic ho già trovato cosa l'ho trovato stavolta vabbè ho già finito no è in closure è in closure vuole è in closure nuova penso mai sentito mai sentito velo ad enclosure mi chiamo proprio malissimo eh non me l'ha ancora aspetta non mi è ancora entrato ah ma io quella questa l'ho giocata in beta questa mappa qua come è in beta l'ho giocata mentre ero in beta la conosco io non mi ricordo io ho giocata mentre ero in beta infatti ho detto ah ok vabbè allora è figa sta mappa andiamo è tipo una serra cos'è un closure è una serra c'è il dome sopra ok dobbiamo spegnere dai hai messo già questo si ma che paio l'abbiamo anche l'oro non datemi fuoco devo spegnere ti ho visto morire malamente cosa? ti ho visto morire molto malamente eh devo spegnere ti ho fatto il tempo un'altra volta ci vai già e non la carichi infatti mi tengo il mio scout vatti a far dar fuoco scout vatti a dar fuoco bravo qua c'è lo spazio per il potere c'è il mio vecchio thruster dov'è per odd? te che la conosci la conosco un poco e poi si vede con quel periodo cazzo di ma per no è via torni indietro venne indietro penso a questo che c'è con demone c'è un cacodemone? no cosa c'è un cacodemone? no c'è un demone critico casuale ah un demone c'è dei pappagalli pappagalli come cazzo facciamo a farlo 30 volt sto lavoro dai veramente dobbiamo farlo soltanto 26 volt io devo farlo 22 perché di meno di me? non lo so io 26 volt 4 su 30 ah c'è un muro invisibile che ne sapevo potrei immaginarlo che ne so ho pensato su un testo di mappa come è stato il bagno freddo è fino a ottobre è freddo ho fatto anche il bagno com'è l'acqua? freddo te l'ho detto che freddo torniamo d'estate qui ci sarà l'acqua calda è una serra d'estate sa come deve essere qua c'è un infiamma è spento mancato è una cosa troppo situazionale questa attenzione che c'è uno con l'ockeluode che ha una buona mira fa attenzione ah si? gli rilasso subito vieni qua avanti vieni qua vieni qua yeah e prendi questi oh però il giro è blastati è una cosa troppo veramente situazione non è un link come si può dire quel meme col jetpack cosa? quel meme quello col jetpack il tizio col jetpack il meme col jetpack si vecchio non mi ricordo qual è quello che tipo faceva una stronzata se ne andavo col jetpack non mi ricordo tipo lo tic2 here tipo diceva non mi ricordo dobbiamo cercare basta che cerchiamo un jetpack meme tipo voi lo conoscete il jetpack meme no no era un po' bello bell'immagine bimbole jetpack ma avanti spara E' il blastagliere al bastardo E' il blastagliere Suicidami Suicidami Banana bella Anzi Lazarus Dobbiamo ancora provare Posso fare la taunt? Ho fatto la taunt della scorreggia Però non si è vista, si è solo sentito E non scorreggia Che cosa? Cosa? Ti devo mandare questi Hai trovato il meme del jetpack? No, c'è un'altra cosa strana Te la mando a Telegram Ok Lazarus Vediamo Telegram Cosa? Perché defeka sulla gamba? E leggi tutto Non ci tengo, grazie Che mi valdi Giochiamo Giochiamo Cerco il meme del jetpack Trovato Nothing to do here Se ne va con il jetpack Ok penso che questo di qua Oh guarda Gli armadietti allo sporo Sono incastolati nel muro Sì? Non li hai visti? No Non l'ho mai visto in nessuna mappa Questa cosa qua Guarda Figo Non l'ho mai visto in nessuna mappa Neanche custom Non mi pare almeno Buono Non penso Non ci dobbiamo fare molto Guarda la nostra squadra Eh guarda la loro No ma Più che altro Per spegnere le persone in fiamme Beh abbiamo la spia Dovevo seguire Tutta la spia quindi Sì? Tutti addosso Alla spia Da capelli verdi Da cappello verde Mi stavo buttando giù La spardo È morto Mi stavo buttando giù Mi sono saluto al pelo col jetpack Però L'abbiamo ammazzato No ma come facciamo qua Spyro sta giocando a paradins Minchia non ce la faremo mai A fare sta missione Andiamo in un altro server Cerchiamolo un po' più bilanciato Perché così non ce la facciamo Se no Palla Andiamo Dovremmo trovare qualcosa che sia un po' più bilanciato come squadra Almeno parlo Abbiamo trovato il backscatter Non l'avevo questo Boh Vediamo Che è successo? Si è andata la ricerca Boh Vediamo Sarebbe forse Forse più forte Veramente sarebbe più utile Perché? Perché Non so Abbiamo bisogno di molti Chalk point Forse Chalk point L'hai chiamata Dai L'hai chiamata E' già finita Che cosa? E' già finita Sì ma guarda Quale hanno votato Egypt Non mi sembra Egypt Beh L'hai chiamata Non finirà più questa partita Lo sai vero? Non finirà mai questa partita No E' appena finita E' finita questa Vabbè Nel frattempo ti mando un'altra roba Non ce l'ho chiamata E' devo fare Highlight No? Sì L'ho chiamata Beh L'ho chiamata Avanti Voglio vedere Come ci è più Utile Turbo Eh? Turbo 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 Notino do here Cosa? Notino do here Penso che quel meme vecchio si potrebbe adesso restaurare col Pyro Ok, abbiamo avviato il restauro di un meme vecchio su Twitch on Final Night Era un critico Era un critico Ho fatto un esperimento Pyro accovarciato col jetpack è strano Vorresti vedere il Pyro Sai che c'è il blocco tanto la Ma so, volevo provare se magari sei com'è La valli fa una cosa nel baglia 3 Ma tanto c'era già dall'inizio quel blocco per il lanciamissili Però sai che a volte funziona malissimo Tipo la roba valli aggiunge roba e si bugga l'altra E beh, dipende dai casi Incoming! C'è uno che sta caricando vita Not big surprise C'è uno che sta caricando vita Bene Bene No ci serve a noi Che se piglia fuoco E infatti bene Non lo finiremo mai Stami un spione Aspetta che lo spingo Aspetta che lo spingo Non lo finiremo mai Già direi Non lo finiremo mai Non lo finiremo mai Non lo finiremo mai hai Beh, possiamo entrare nel buco che c'è sotto lo spawn con il jetpack. L'altro buco. Il buco dove c'è la griglia, sai? Guarda, vai avanti, vai avanti, là dentro, là dentro davanti. Capito quale lì, sì, sì. Eh, possiamo entrare lì, nell'altra base. Dovrei prendere poco, Emy. Andiamo. Lì. Questo buco di qua, guarda. Dove vai? Sali. Ma cosa facciamo la sopra, scusa? Col buco, con il jetpack, come c'è? Non lo facciamo qua, Uliudio. Vieni, è sicuro, vieni qua. Dobbiamo spegnere, non lo dobbiamo dal fuoco. Ah, giusto, scusa. Quello che sta scappaggendo lo scheletro è proprio un po' un po' un po'. Cosa? Questo è un scheletro. Un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Che sceletro? Lì, vieni qua nel basement. Arrivo. Dobbiamo fare un lavoro. Dove? Nello scantinato rosso. In cantina? Eh, muoviti proprio. Arrivo. Dove sei? Sto arrivando in cantina, aspetta che scendo in cantina. Veloce. E non ti proteggono. Ah, adesso, sentiamo la polizia. Attivando gli sbirri. Ok, sono in cantina. Dove sei? In cantina! Ah, c'è un paio. Dove sei? In cantina. Ma quella rossa. Hai detto nella nostra. Quella rossa, non nostra. Ah. Devo fare tutto io. Che adesso parla meglio? Vai, vado a catturare. Intanto ho fermato un paro che aveva la nostra valigetta. Chi vuole combattere? No. Cazzo, col cazzo, col cazzo, col cazzo. Ok, sono nella cantina. Dove sei? Rossa. Eh, sono nella blu. Io mi sniperai con me. Io sono andato a conquistare. Sono morto nella cantina rossa. Però conquistato. La cantina rossa è la mia tomba adesso. Vabbè, canta le spawn. Però è la mia tomba. Adesso vai a portare i fiori nella cantina rossa. Vai retto, prendi fuoco. Sono nell'altra spawn. Dove sarai? Sto spingendo che ho ancora più di fuoco. Anche io. Ho nessuno più di fuoco. Quello è il problema. C'è uno scout davanti al nostro spawn. Non che sia un grande problema. Sto andando alla cosa rossa. Dove ci incontriamo? In cantina. Quale? Rossa. Chi sei? Sono... Aspetta, aspetta. Sono morto. Vai, la blu. Vai, la blu. Ma quanto pare la parrucca è per tutte le classi allora? Perché anche il Pyro l'aveva adesso. Quale? Cosa? Quale parrucca? La mohack. Sì, sì. L'avevo messo anch'io prima. È per tutte le classi. L'aveva il Pyro viola. Cambia arma, maledizione. Merda. Mi era... Mi si era... Mi si era bloccato il gioco. Mi senti? Ti sento. Uno ha reclamato il rescue ranger. Che significa ha reclamato? Redimed. Eh, che significa? Redimed. Redimed, reclamato. Forse, forse c'è come oggetto di una... Delle missioni, dei contratti, di cui vince un vestu ranger. Ma il vecchio. Perché metterlo? Uno adesso ha reclamato il jug. Qua stessa, sì, ci sono delle missioni come vincere delle armi a caso. Questa non la completiamo più. Ma io non ho mai shoppato nulla su TF2. Eh? Cazzata. Su TF2 è l'unico gioco in cui non shoppo. Cazzata. TF2 è l'unico gioco in cui shoppo. Può essere. Dai, sei morto adesso. Eh, mi metto in cecchini. Mi prendo il tuo, il tuo thruster. Ah, non l'avevi. Sì, ce l'avevo, ma non l'avevo equipaggiato. Cioè, devi aver equipaggiato in quel momento perché non troppo terra. Non so, non l'avevi. Mi stai aspettando. Magari uno spawn qua. Eh, lo so. Andiamo. Andiamo. È così. Andiamo. Gira, gira, gira. Sono il camera, venga, andiamo. Vai, dai, dai. Tento, tento. Perché mi ricorda diva questo oggetto? C'è meno. Ma anche Farah. No, è più tipo diva. Farah è il tipo doppio salto. Si attiva con il doppio salto, mi pare. Si ricarica molto più lentamente questo. Farah col tasto adesso si attiva. E vola. Questo invece è verso in avanti, come diva. Potevo spegnerlo ed è morto. Devi spegnerlo per non morire. Eh, ma l'ha preso già troppo danno. Che poi neanche l'ha ottenuto, l'oggetto, ma che già è arrugginito. Tuttavia. È una nuova arma, è già arrugginito. Deve essere una skinne tra qualche anno. Mi ha fatto tanto in sita, ero? È troppo, è troppo, troppo, troppo casuale questa quest. Non si può fare subito. È una cosa assurda. Veramente? N-De- Fair! Shit! Fuck! Mi sono salvato proprio per un pelo. Ok. Abbiamo però molta gente che non è Pyro, quindi possiamo... Vediamo se riesco a fare un'altra missione io nel frattempo, che questa non lo riesco a completarlo proprio. Sì, ma guarda, 26 volte ancora. Dovremmo essere in tre, di cui venire in un'altra squadra, sarebbe l'ideale In tre? Sì Però uno deve andare in un'altra squadra Il problema è che anche quando fossimo in tre, quando capita che ci chieda se cambiare squadro? Eh, bisogna avere uno Dipende da dove miri e clicchi e ti manda nel punto in cui miri È proprio come D.Va di Overwatch questo oggetto Se avete trovato Overwatch e D.Va in particolare è proprio uguale, identico Solo che è solo un colpo solo e non dura mentre si tiene premuto Sono io Non potete zerla per i jade Eh? Non potete zerla per i jade Sono morto Mi sa che alla fine questa quest la otterremo per culo È quello, come facciamo a fare le trenta? Sono troppi, è un esagerato Curami Come? Non lo so, curami Sono morendo dove aveva il jet Non voglio morire Sono giuro col potere del Tuxar Non capisci come il forward you are Cosa? Vabbè, ma che cazzo Dobbiamo chiedere a qualcuno della sua squadra allora Eh Non lo so, dobbiamo chiedere in chat a qualcuno della sua squadra Scrivi te, io non ho idea C'è qualcuno che può fare il pyro e darci fuoco Ok, il jetpack si può anche usare per bloccare il volo di qualcun altro Gli vuole in faccia Ci riesci Ci è riuscito adesso Perché voglio ghiccarti? A me? Sì Ho votato no Perché sto cazzeggiando Sto cercando Scusa, cliccano me ma non le vi Eh Qua ledi No No Succa F**k you, Beelbo F**k you, Beelbo E' veramente lento il cambio dal jetpack al lanciafiamme C'è il teore o is a f**king shit, Peekle F**k you, Beelbo Non posso stagliare quelli della sua squadra Ho dato fuoco a uno scout e non si è spento E' morto Sì C'è chi lo carincia a me e' morto prima C'è anche la tempo che si carica E' questo il problema Fa schifo questo Tempo Non è che fa schifo Non è Non si può usare per spegnere la gente C'è tempo veramente che carica il colpo E muore intanto Tutto il tempo per morire E' soltanto una cosa casuale Cioè non puoi farlo Noi Non usa l'air blast Se devi Io potevo capire Spegnere qualche compagno di squadra Basta Anche con l'air blast Avremmo già finito Se fosse stato con l'air blast normale Sto facendo il mio mouse C'è una spia C'è il mouse che si sta muovendo da solo Bravo Ma perché Ah perché era di fianco alla barra Non vai con Adesso va con quella valigetta Ha Glice della vita E' morto lo stesso Tiè Dobbiamo diventare la valigetta E catturare Un'altra volta Cosa? Avessi fatto in tempo Usare la lancia Il coso Lo salvavo Certevamo un punto Di nuovo sono morto 4 su 30 4 su 30 Non è Non Ma poi 30 30 E' un numero altissimo Absurdo A massimo che so 5 Boh 5 Ho 30 Ma in qualunque modo Ho 30 In qualunque modo E' proprio Veramente assurda Sta cosa Dai sto Quasi Arrivando All'intelligence Ci sono quasi Dai 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 Yes Abbiamo vinto Ah si? Si Ho catturato Che si fa? Eh? Che si fa? Egypt Dai io scommetto Eh? Pronto Cazzo Non si può fare Lasciamo perdere Contrati giochiamo Dai faccio i miei a sto punto Si Tanto questi ci saranno ancora per un po' dai Aspetta fa il disconnect Andiamo ci porti di nuovo No dura troppo Aspetta fammi un attimo Per prendere un contratto Intanto ho fatto il disconnect Ti farlo nel menu Ho fatto Cosa? Allora io ho una in cui devo Keta kill Ottieni le kill in attacco E' una che mi dice Di fare punti su mercenary park Ok E' una che mi dice di fare punti in difesa E' visto che attacco in difesa è mercenary park Ok cerca per mercenary park Attivo questa Ok Metto proprio la mappa specifica Sì Allora devo fare 100 punti in mercenary park E te con le cose extra C'è catturo difendi un punto di controllo E vinci un round Minchia dai Si può fare Non è difficile Non avendo Notte notte Non avendo il pass Non posso farla io Ma al massimo puoi pigliato Poi domani Se riesci a caricarti 5 euro No 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 Al massimo vediamo se si può prendere col metallo Ma sicuramente si Però adesso costerà un sacco Hai delle chiavi te Sì ho anche È il metallo È delle chiavi Perché 5 euro Mi sa che Con un prezzo di 5 euro Sono già due o tre chiavi Mi sa Vediamo Se riesco a scambiarlo col metallo Lo prendo Così mi viene gratis Devo vedere su Su cosa Su TF2 Bazarra Come si chiamava quel sito Bazarra.tf Finalmente posso giocare qualcosa di verso la pari Ecco E con questo cosa sblocchi I blood contract La roba buona E le skin anche in teoria Da quando ci sono le skin Forse degli oggetti Tipo non so se Quindi che dobbiamo fare Punti Sono punti Ok Punti Tipo Punti Poi se riesci Cattura e difendere i punti di controllo Allora Ti so Sto curando Ti da punti Ancora no E non so se A me si spiega e ho lavorato Merda Oh che bello Giocare con qualcos'altro Oh bu Sto morendo Eh ma io non vedo il progresso Eh lo vedo Tanto Lo dico io quando abbiamo finito A che punto siamo Eh All'inizio 12 Hai l'Uber Si Conta come punto Forse se l'Uber si però spesa Ha contato come punto Conquistare mi dava tre punti Scalare Sto lì 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 Ora arriviamo all'ultimo punto Che impossibile Eh sono morto Spia Eh Spia col dead Recon Rmk2 Knife Bello Tutti sti pyro Tutte stai skin Io non ho neanche una Perché non abbiamo mai fatti Perché tutti Siamo sempre tenuti Per tramite contratti Non abbiamo mai giocato In contratti In quel periodo Di nel veo È la prima volta Che giocavo nel periodo In cui i contratti Ci sono Anche Ma io si Avevo il pass I contratti Ma No Quindi Allumin Non conta Ah Perché Allumin È solo Roba Basica Eh Qua Dobbiamo andare Heavy Combo Combo con l'Uber Hai visto Funziona sempre Anche col demo Però con l'Uber Aspetta Ho già 40 punti Su quanti 100 Ah Solito Quanti sono I contratti 180 Tipo Ce ne sono un sacco Bello Ok Ok abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ok abbiamo vinto E hai guadagnato Quanto 15 punti Per aver vinto 3 per aver catturato E 1 per una kill E quanto sei 45 Ora dobbiamo difendere Vaffanculo Cosa 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 Vaffanculo Chi Oh Ha scritto Vaffanculo In chat Ah Fottiti Guarda la chat Io ho risposto Stiamo andando alla parte giusta Sì Tu va a maiale Ho l'uber pronta Eh ma tu pa' maiale Ho l'uber pronta Doviamo difendere Quindi va bene L'uber adesso Sì Eh ma tu pa' maiale La missione comincia in 10 secondi E batte il tuo padre pig 5 4 3 2 1 Dove sei? Dove sei? Andiamo Cazzo non ero pronto Vai vai Spara Perfetto Buono Ma non lo sai Sono Le stichi Sei un bombarolo Giusto? Via 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 Questa è benzina Via Sono in fiamme No Rifiuto Rifiuto No Mi ha chiesto se volevo cambiare No Ma non ho più Non ho più stichi Ma non ho stichi Perché non sto l'altro Ormai si sa La mia classe È il supporto La mia classe è il bomb La mia classe è il supporto E' una delle prime volte che giovi medico Il tuo spontanea volontà Come? Ho sempre gioco medico Soprattutto per rompire il collo Quando ho la spia nell'altra squadra Soprattutto quello E' questo di cambiare squadra Vado sempre medico in quel caso Quando fai la spia Perché non fai la spia? Mi va Eh? Fai punti come la spia Aspetta è pronto il contratto Beh Andai al contratto Fai un altro E non posso Questo di da Da delle skin Probabilmente Da fare punti di difesa Ma se i contratti si possono ancora fare così Per quale motivo Non ne fa accettare più di uno contemporaneamente E' la stessa cosa Deve andarci piano Eh? Perché devi andarci piano Ma è la stessa cosa Questo ha il cosa Il trigger bot C'è uno col trigger bot Uno dei nostri? Un blu col trigger bot Attento Il trigger bot Quello che fa L'air blast automatico Sai? Eh? Il trigger bot Fantastico Non conosci il trigger bot Dai Il trigger bot E' quello che fa L'air blast automatico Il backstab automatico Il backstab automatico? Backstab automatico Quando passi dietro a qualcuno Col coltello Fa Colpisce automaticamente E il trigger bot Fa l'air blast automatico Quando rileva un proiettile Perché me le ha Air blastati tutti Quindi ha per forza il trigger bot Oh è bravo Impossibile Gli ho smalti due Velocissimi Uno accanto all'altro Come ha fatto? No 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 Trigger bot Ora non so chi fosse Ok sono furbi Non entrano Perché? Perché sanno che c'è Ho una sticky trap Pronto Ma dove? Qua Dove è la sticky trap? Ok sono entrati Ok Ok hai ragione Te l'ho detto che è il trigger bot Vero? Hai ragione Ecco Spiegami come ha fatto Ad air blastare Quelle sticky Senza neanche guardarle Spiega Non tanto le sticky Eh? Non tanto le sticky È stato La bomba Le bombe che mi hai Riblastato troppo velocemente Te l'ho detto Poi ho spavolato il pane Ha il trigger bot Aspetta che voto per kickarlo Non voglio cambiare squadra Non posso votare per kickare gli avversari Io poi questa cosa non l'ho mai capita per quale motivo Non lo so Attivamente non ha senso Non ha senso Wasabi e altri trigger bot Oh Ho ammazzato quello del Fottidi forse Non so se era lui Non lo so Mirko Tavacchia Mirko Può Può essere Mirko Sì i coccodrini I modelli di coccodrini Ho ammazzato di nuovo Mirko Stai giocando bene Chi? Lo so Sono un soldato Te lo vedo nei punti Lo so È la mia classe La mia classe La mia classe non è il supporto La mia classe è il missile Sono rocket man Sono l'uomo missile Stiamo vincendo Che ho kamikaze Sì Ho kamikaze Sì Io sono un camper Sono un uomo missile Vittorio E' ancora un mostro che non l'ho vista Ho bisogno di mercenari Di nuovo Ho bisogno di mercenari park di nuovo Ah ok Ah no beh basta che sia un attacco difesa ora E non so E non so Mostro che che cos'è E' quello Anche perché lì non fa vedere che cosa sono le mappe Fa vedere solo i nomi Devi conoscerli Eh Faceste vedere tipo il nome della mappa Questo è attacco a difesa Non ho visto come si chiama il file di mercenari park Sarà tipo cp mercenari Cosa scusa Il nome del file di questa mappa Cosa Cp mercenari park Ah Sono in attacco Siamo in attacco Ah ma E' bastato Cosa No Ah Accettato E' bastato Hai consigliato quella di prima anche Dammi gli oggetti Dammi Ah non è bastato infatti No Non è bastato questo Quella di prima l'ha consegnata Sì sì Ho vinto i bloody money I bloody coin Bloody money Come si chiamano Ma cosa Hitman e bloody coin No praticamente posso In pratica posso poi scambiarli per degli oggetti Di oggetti Hitman e bloody money Adesso ho di un po' di vedere le skin nuove Guarda Guarda Lo liete Fa anche rumore se ti avvicini Premi il tasto Inchia Non sei indifeso C'è Mirko il nuovo Aspetta Attivo l'altro contratto Quello che devo stare in attacco Aspetta Siamo in attacco Get a kill in offense Bonus cattolo in oggettivo in offense Dominare i down under player in offense Guardami Sono io Asset con Eh? Guarda qua Guarda qua Anche la padella che si piega Con i colpi Posso bere di modo la bottiglia rotta Non cava qui La vedo rotta anche io È rotta? Sì la vedo rotta Lo senti se lo premo io? Lo senti lo yeti Sai che con tutti sti pyro Non è per niente la buona idea Alla padella Rimor Vabbè Non è Halloween Non mi fa mettere il Ma infatti Non è Prima era Halloween Non ho capito Non mi fa mettere L'Aquila Tipo Come si chiama La testa d'aquila hai? La haunted quote Quella che ti vola dietro Ah non è la testa d'aquila No La haunted quote Si chiama Non ho neanche uno di quei costumi Quelli tipo Teste o corpi Forse avevo Avevo Forse ho quella del medico Non conquistate Devo conquistare io Mi servono quei punti Si forse ho la dark soul del medico Tipo Ah ecco Ho la testa di piccione del medico Ah ma aspetta Get a kill On offense class Non in attacco Merda Mi ho buttato Un poccodrillo Offense class Significa Quelle Scout Pyro E Soldato Vada per il soldato Vai soldato allora No vado Pyro Non ci ho giocato molto oggi E was being sarcastic Vai scout allora Schifo Comunque ho Ho il cappello di Bill Perché devo finire le munizioni sempre più o meno Ho ammazzato a Mirko di nuovo Grazie Ah no Franz House era l'italiano Franz House VG Non Mirko Non c'è più Non c'è più Meglio E non Non possiamo dirgli Dopo a maiale Da dove si esce? Ed è quell'ia che si perde Come al solito Cazzo Meglio A me piace il CP Gorge Guarda che figa E poi mi piace quella con Con Le seghe Quella con Con la legna Le seghe E il fiume sotto Sommil 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 Che poi Cosa cambia tra Sommil e Lumberyard Un troppo diverse Eh Perché Pairo Pairo Se sei Pairo Sei un Pairo Sono qua veramente Allora non sei te una spia Eh Spari Pensavo che Poteste Travestire soltanto Da quello che è veramente A volte capita che Non pensavo che poteste Prendere anche L'equipaggiamento Di qualcuno Che non ha Quell'equipaggiamento Equipaggiato Adesso Cioè nel senso Che non è Quello Tipo Un Pairo Che non è un Pairo Nel gioco Però prende Comunque l'aspetto Di quel giocatore Quando è un Pairo Non so come ho guardato A te Cosa? Non so come ho guardato I punti Guadaghi i punti Senza fare niente Sì sì Che ti faccio? Alla si quadrati Guadagnare anche io Sì potremmo Dovete avere anche Teppoi le skin fighe Più che altro Così Dovremmo fare il lavoro Una volta sola Vabbè ma questi Sono ancora semplici Quelli che sto facendo io ora Alla fine solo fare i punti Buonanotte Sì ma Li dovremmo fare Una volta sola Comprate anche te il pasto Eh Devo rivedere Quanto costa in metalli Sono pieno di metallo Io Penso che tu la sentri là Eh? Ci sono le sentri là dentro Bisogna saparle Oh forse no Le 23 Non so se Fare l'ultima ora Cioè se Se fare questa qua Come ultima partita Quando facciamo la difesa O è Dai io pensavo di sì Cioè facciamo la difesa almeno Dico Sì sì Completiamo Anche voglio finire l'altro contro E poi basta Sono ovviamente Non ho da fare niente domattina Però comunque Hai più studiare Quindi Vedrò finire troppo tardi Vorrei provare qualche FPS DOS Ok Ho tre munizioni Di Cioè le facciamo Cercale Mi apposento con quello che ho Non penso Basti Mirko dai Perché mi hai ammazzato Sei morto anche te Dovremmo fare il gioco Il gioco da tavolo Di TF2 Come Tira un dado E ti esce il credit Run the dice Eh Run the dice Run the dice Tira un dado E pesca una garcia E hai quell'effetto Io ti guardo anche la capra Tira un D20 Torno subito Eccomi Eccomi Tanca Tanca Stai andando con la porta giunta Non lo so Sì Ci E se andessimo da sopra E sopra Hai la quick fix No Vediamo com'è la situazione Non puoi andare da sopra te No C'è un modo C'è un modo per salire qua sopra Aspetta C'è un modo per salire sopra Ah sì c'è una scala qua Dove? Segui Aspetta Ok Segui Ah ok da qui Però la parte del sopra Comunque schifo Eh Eh Uh No Si è un attimo Rappetato il modo Ok andiamo Potevi dire Potevi aspettare un secondo Non so neanche dove la senti La sopra Eh Dovevi aspettare un attimo Dovevi aspettare un attimo Troppo spontaneo Eh Non ero pronto Prepariamoci Ma non c'è vero Io sto qua Farmo un po' di uber Posso? Io non c'è niente Ti dia pull Stai al sicuro Farmo un po' di uber Dove sei non morire Tanto guarda Non manca molto Non manca molto per l'uber Torna indietro Tu cerca di non stare un po' di uber Ok è quasi pronta È quasi pronta Ok Andiamo Usciamo da qua Vai Andiamo Alla senti vai Senti senti Ok Perfetto Ce n'è un'altra però C'è un evi Non posso guardare solo te Fai lo dietro Fai lo dietro Forse è morto Soldato Fai lo dietro Canto te ne da qua Se sei italiano Sei morto? No Ok andiamo Ogni volta lì Scusa Dove andiamo? Ammazza Ribo! Fai spazio. Catturiamo! Ho visto! Immagino il pain drain. Ormai. Ok. Per catturarvi. Tanto è con l'equalizer che non posso curarsi, non col pain drain. Mi pare. Adesso ho anche con l'equalizer, cura solo di meno. Ok. Di sopra, dai. Come prima. Sì, andiamo, saliamo. Almeno facciamo qualcosa. Lì davanti non c'è niente. Non sono venuto, eh. Dobbiamo andare in overtime. Se vinciamo tieni più punti, quindi ci interessa vincere, no? No. Veramente no. No. No, qua dovrei conquistare il punto io. Conquistalo. Ma te hai più punti. No. Non andavi. No. Non andavi. No. Anche perché devo stare in una... no, devo stare in una... in una... personaggio di attacco. Hai anche... hai anche quello per difesa, però. Quello per difesa? Quello per la difesa adesso è di terpidato. Quando quello di indifeso lo devo attivare però. mi hanno fatto il culo. Qui c'è Milo Bella. Ok, abbiamo vinto. No. Non l'ho completato per un punto. Che punto. Un punto. Un punto. Vabbè, senti, finisco l'altro. Siamo in difesa. Facciamo solo questa e basta, dai. Aspetta, finiamo. Ultima partita per stasera, dai. Tanto non mi mancano tanti punti, mi basta... Non vedo che hai... che hai il contractor addosso però te... Perché non l'ho messo come oggetto. Aspetta, apriamo così. Cosa? Non l'hai? Adesso lo vedi? No, non lo... Ora sì, come funziona? Lo dovete equipaggiare. Perché si equipaggia? Sì. Ma come... a che serve equipaggiarlo? Non lo so. Ho sbagliato. Oh, cazzo, siamo in ritardissimo. Eh, basta il bianconiglio. Non fare il bianconiglio. 5, 4, 3... Aspetta, ho l'Uber pronta, dai. L'Uber sembra che dia un punto. Eh? Non l'ho spiegato. Mi sembra che l'Uber dia un punto. Non l'ho spiegato. Non devi cambiare... non devi cambiare personaggio. No, basta che difendo qua. Non è per i personaggi di difesa? No. Chi da l'Uber ai soldati, comunque? Via, 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 via. Perché sento dei suoni? Sento dei suoni strani. Cos'è? Quando guadagni i punti? Può essere. Aspetta. Ti sento tipo tron... Sì, sì, quello. Io non guadagno niente, però. L'ho finito, adesso devo portare il raid. L'hai finita già? Sì, mi mancava più poco. Anche l'altra, per quello. Allora, io gioco. Sì, io gioco pure. L'ho finita anche prima, eh. Ma stavo facendo i punti, non mi interessava la punta adesso. Le kill contano come punti, forse. Sì. Ci dipende dal punto di vista della missione. C'è qua con i piedi dei punti. Quindi anche il tipo 2 assist li prendiamo un punto. Devo mettere questa mappa sul filmmaker. Era banana? Sì, ti è. Grazie. Cioè è sandwich. Sono morto. Sei morto lo stesso. Sì. Non ho letto le statistiche della banana. Praticamente non la deve stati scrivere proprio. Cioè è una cracchiata alla fine. È come il sandwich, è solo che cura la metà ma si ricarica la metà più velocemente. Non cura la metà, cura il 33% in meno. Quindi mettiamo dentro il sandwich. Che? Allora cura più del sandwich e si ricarica... cura meno del sandwich ma si ricarica più velocemente in pratica. Allora... Cura un pochettino meno del sandwich e si ricarica più velocemente. Ho un'idea. Ho un'idea, facciamo un'arma che cura meno del sandwich ma si ricarica più velocemente. Che cosa dici? Eh. Alla fine era la vecchia da Logosbar. Che c'era schifo per cui è l'unico. Adesso la da Logosbar almeno ha qualche cosa in più. Che non le conosco neanche. La cosa di cioccolato. Di cioccolate. Non so cosa fa in più. Praticamente se tu la mangi dopo la vita piena ti da 50 di vita in più per 30 secondi. Quindi la vita massima è 350 per 30 secondi. Ah. E non è over heal. Puoi anche andare oltre. Quindi se ti da l'over heal hai 50 più di over heal anche. Quindi per quello funziona glitch. Si. E credo che sia qualcosa legato più ai nuovi guanti. Tipo con i guanti hai meno vita e quindi non lo so come funziona. E il sandwich è il sandwich. Eh? E il sandwich invece è il sandwich. Cazzo. Tre coccodrilli. Ah hai visto che ti ha fatto l'icola custom? Colorata anche. Mi sono perso. Dove devo andare? Stavo difendendo benissimo. Mi perdo sempre in questa mappa. Dove devo andare? Ok. Dove? Merda non è da tutta la tua vita. Dove devo andare? Qua c'è tutto chiuso. È andata da parte sbagliata allora. Ma dove devo? Soprattutto come hai fatto sbagliare questa notte che fuori dall'uscita c'è un teletrasporto? Non lo so. Mi perdo sempre. Ma c'è un teletrasporto fuori dall'uscita. Potrebbe essere una trappola. È un teletrasporto normalissimo. Può essere che ti manda sui quadrilli. È un teletrasporto normalissimo. Ho preso pure io. Non lo trovo neanche io il teletrasporto. Ah ecco ho trovato A. Aspetta che gli metto lo spray sopra così la trovo subito. Ok. Difendiamo bene? Lo posso anche ballare. Sto difendendo. Sto difendendo. Sto difendendo. Attenzione io sto difendendo troppo bene. E vai. E io ho difeso con la conga. Vabbè a ritrovo nemmeno. E con questo noi stacchiamo qua per stasera. Buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte a tutti e alla prossima.